io vabbè penso di aver detto tutto voglio solo di una cosa fra tre giorni mi scade l'abbonamento fascistello mio amore mio che faccio lo rifaccio o ti impegni un po' di più comunque io sono Mr. Hyde Drum quando ti ricorderai di me Mr. Hyde? ma no quel coglione io sono quello che mi ha messo quello che mi ha messo tra i VIP lei è ufficialmente invitato qua fisicamente ma non posso perché sono fuori in azione non sono in Italia è scappato per problemi di qualche tipo oppure così no 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 praticamente soffro di amnesia e non ricordo che mi è successo negli ultimi dieci anni grazie mille è grande questo potete controllare la mia bio nel mio canale ci crediamo ci vediamo domani alle ore 15 grazie Rubino, grazie Ludovica, grazie Alex anche se non hai fatto un cazzo ma non devi fare un cazzo ah ah aspetta 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 domenica c'è solo la live serale ci sarà la live alle 15 che me la fa la maschera ve lo dico così proprio cosa? ciao basta ciao no guardate che non sto scherzando lo sa ammarra ciao 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 ciao